Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati su Supermarket Simulator, è arrivato il momento di aprire il negozio e di giocare un'altra giornata di lavoro. Siamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ma avete detto tra l'altro, adesso io qua chiudo un attimo la cassa perché devo fare una cosa, ma avete detto che lo scaffale da mettere nel magazzino è quello piccolino, piccolo scaffale, questo qua, dovrebbe essere questo, quello del magazzino. Andiamo un po' a vedere se è questo, vediamo un po' così, cerchiamo di gestire meglio il magazzino. Adesso però che succede che, porca miseria, ho messo tutta la roba, ho messo tutta, ho messo tutta la roba, porca miseria, porca miseria, ho messo tutta la roba, datemi un attimo, ho messo tutta la roba per terra e non c'ho più spazio per metter sto stramaledettissimo scaffale. Bene, datemi un attimo, intanto il cassiere sta al lavoro, allora, è un macello ragazzi, è un macello, cercamo di fare un po' di pulizia dentro sto magazzino perché veramente, ora io non so quanto spazio serva, ma credo che così c'entriamo, vediamo un po', 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 ci dovremmo entrare, sì, le voleva quella scatola del Kaiser, le voleva quella scatola del Kaiser, datemi un attimo, rimane questa scatola del Kaiser, ok, allora, vediamo un attimino, no, K, o K adesso, oh, perfetto, cioè voi mi, no, aspetta, lei mi sta dicendo che io posso metterci due scatole a ripiano, ma voi state scherzando, io spero che voi state scherzando, cioè mi state dicendo che io posso mettere un solo prodotto, no, dai, ma assurda sta cosa, ma non è possibile, e quanti ripiani mi ce vogliono per mettere tutta la roba, ma dai, ma porca pepuzza, ma porca la pepuzza, non è possibile ragazzi, però questo, vabbè, 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 e quindi non c'ho più spazio, come faccio a mettere lì sopra i prodotti che non me li mette, aspetta, vabbè, non c'è ripiano sopra, che amarezza, raga, dai, troppo poco però, oh, è troppo poco, vabbè, vabbè, compriamo un altro scaffale, datemi un attimo, compriamo un altro piccolo scaffale, tu lavora, eh, lavora lì, che io sto a gestire il magazzino, eh, datemi un attimo, che mo questi prodotti giustamente li devo levare da qua, se no non posso, mette i ripiani del magazzinuzzo, poi devo assumere pure il magazziniere, se non va del rocchio, se non va del rocchio, ragazzi, devo assumere pure il magazziniere, macello, raga, è una macelleria qua, è una macelleria, allora, dice no, è un magazzino, no, è una macelleria, e meno male che i prodotti non vuole il frigo, meno male, meno male che non vuole il frigo, comunque dai, siamo decisamente più ordinati di prima, eh, siamo decisamente più ordinati di prima, ragazzi, ma non c'è una mod con dei magazzini, dei scaffali più capienti, eh, mi dite se c'è una mod con gli scaffali più capienti, per cortesia, eh, beh, comunque dai, già all'ordine qua, è tutta un'altra cosa, allora, andiamo a vedere intanto se c'è da rifornire qua qualcosa, tipo le uova, qua, perfetto, poi, eh, la pasta, la pasta, oddio, è finito un prodotto, il riso? Che cos'è che è finito lì? Eh, la pasta, la pasta, la pasta, dove è la pasta? La pasta, no, questo è il tonno, no, vabbè, pure il tonno credo che possa essere rifornito, ok, perfetto, poi, eh, la pasta, la pasta, la pasta, ma, magazziniere per un giorno, magazziniere per un giorno, ragazzi, prima che assumiamo il ragazzo al magazzino, lo faccio io, il magazziniere per un giorno, eh, poi, 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 ma che sto a caso, sto a buttare dentro la roba a caso? Eh, zucchero, cereali, zucchero, cereali, spaghetti, zucchero, qui togliamo l'etichetta che c'era già il riso, zucchero, cereali, spaghetti, farina blu, zucchero, cereali, spaghetti, farina blu, allora, vediamo se ci abbiamo dello zucchero, zucchero, spaghetti, eh, no, questa è la farina, no, 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 spaghetti, ah, l'etichetta indica il prodotto sotto, spaghetti, ok, e poi farina blu, eh, ci servirebbe, ma mi sa, non ce l'abbiamo la farina blu, eh, mi sa che la farina blu sulla pelle tua, mi ricordi l'ondra snob e biondaco, allora, la farina blu non ce l'abbiamo, sapete? Vabbè, mettiamo roba a caso, mettiamo roba a caso, allora, l'olio, ok, l'olio, eh, formaggio, oh, ma accendela però sta luce, eh, fiolo, fiolo, accendela la luce però, eh, mannaggia la miseria, fiolo, oh, tu accendi la luce, vediamo se posso assumere il magazziniere, allora, eh, gestione, assunzione, cassiere, rifornitore, vai, oh, l'ho assunto, ho assunto il rifornitore, ragazzi, ho assunto il rifornitore, dov'è? Eccolo, oh, mo mi piaci, mo, sì, ma accendete la luce, non c'è la luce qua nel magazzino, mi tocca metterglielo un punto luce a sto fio, aspetta, eh, povero fiolo, sta senza, sta senza punto luce, allora, 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 gestione, non riesco a capire, arredamento, ecco, arredamento, dai, due punti luce a sto fiolo, azzolina, è chiuso il negozio, è chiuso il negozio, azzolina, 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 vabbè, cominciamo a fare le ordinazioni per domani intanto, mentre che loro lavorano, allora, le uova, il tonno, anche il miele, mi scusi signorina, anche il miele, ammazza, il burro da raggedy, non lo compra più nessuno, il sale, mi scusi signorina, lo zucchero, i cicci picci qua, questo, la pasta, il riso, la farina, spaghetti, un po' d'olio, qua che c'è, caffè, vedo il caffè, ok, questi prodotti sono nel, nel, nel carrello, ok, perfetto, perfetto ragazzi, la giornata sta andando così, ma aspettiamo che, che il tizio manda via tutte le clienti, e poi, chiudiamo, e poi chiudiamo, allora, a posto, possiamo anche chiudere, eh, la torta è diminuita di prezzo, eh, no, è aumentata, 4,82, noi la vendiamo a 4,50, io la vendo a 5 euro adesso, 5 euro, ecco, no, ma non era questa la torta, era questa, no, 2,10, non era quella, allora, nel frattempo ne facciamo l'ordine, e, facciamo quest'ordine qua, e volevo vedere se sbloccare altri prodotti, allora, se sbloccare altri prodotti, gestione, licenze, ad esempio, eh, ma non ci abbiamo i soldi, non ci abbiamo i soldi, quindi bisogna, bisogna un attimino mettersi sotto questa giornata, lavorare, lavorare, cosa che non abbiamo fatto alla cassa nella giornata di ieri, eh, molto importante comprare un altro scaffale, secondo me, è molto importante comprare un ennesimo scaffale, perché, ovviamente, se i prodotti non stanno all'interno dello scaffale, io credo che lui non li legga il magazziniere, non li riconosce che ce l'abbiamo, e quindi è un problema, perciò, andiamo a buttare, diciamo, anzi, dai, no, buttare, investire, andiamo ad investire questi ultimi soldini che abbiamo, in, eh, due scaffali, no, non ci vengono due scaffali, non ce la famo, uno, dai, uno, andiamo a mettere un altro scaffale, così, così il magazziniere riesce meglio qua a, a gestire la cosa, allora, eh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', ok, l'olio, 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 allora, riforniamo tutto, la farinotta, poi, eh, i cicci porchi, sono buoni i cicci porchi qua, ragazzi, i cicci porchi sono, 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 dei, degli ottimi, il coffee, the coffee, the coffee, poi, qua, che cosa abbiamo? I cerealetti questi, li mettiamo nel magazzino, ok, eh, petta, eh, qui un petro, così buttiamo la scatola, dov'è il succo petro? Oh, il succo di petro! Cavolino, era finito il succo di petro? Ah, no, eccolo, il succo di petro, mamma mia! Si dice, se era un cane, ti mozzicava, da me si dice, quando una cosa ti è vicina e non la vedi, si dice, se era un cane, ti mozzicava, allora, il riso lo mettiamo qua, il riso, l'avete capito? Uno che ride, il tonno, e lo mettiamo qua, tu non mi aiuta, eh, magazziniere, sta lì fisso come, come un tacchino, che guarda il vuoto, questo non so che cosa sia, credo miele, orra il cazzozza della porta, miele, eh, poi, eh, olio, ok, anche questo lo mettiamo nel magazzinone, questo? ah, il marshmallow che è? Due precisi questo? ah, il caffè, caffè navarro è il caffè navarro è il caffè di navarro questo che è? oh, non lo so, ova, sale, che è? sale, 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 e non fa male, lo zucchero è finito, lo zucchero su, lo zucchero su è finito, e lo zucchero giù, allora, eh, l'olio, ok, l'olio, e poi chiudiamo ragazzi, eh, chiudiamo, allora, olietto, cioè mieletto, ok, e poi, le ultime tre cose, i punti luce, qua, uova, ma sì, dai, mettiamo le doppie uova, tanto ci avanza un, un, un fregnetto, un'altra luce, un altro punto luce, ecco, così, così il povero magazziniere non ha il buio, e saletto, e saletto, a posto ragazzi, a posto, un'altra giornata di lavoro, siamo pronti ad affrontarla, eh, perfetto ragazzi, abbiamo assunto il magazziniere, e messo gli scaffali nel magazzino, inoltre, non so se l'avete notato, grazie a Stefano, ho inserito anche la mod degli euro, vedete che adesso i prezzi sono tutti in euro, credo, credo, sì, vedete, c'è la E, quindi abbiamo anche messo, eh, la mod dei soldi in euro, detto questo, ragazzi, spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento, vi aspetto anche sulla piattaforma Viola, dove porto anche questo gioco, sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete Amazon Prime potete abbonarvi, e aiutarmi gratuitamente col canale, vi ricordo anche, eh, i miei social, Facebook, Instagram, e, eh, TikTok, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!